Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 incidente alla barriera di Firenze Ovest in direzione Pisa. Veicoli in lento movimento tra Alto Pascio e Pistoia in direzione Firenze. In Fippillè attenzione al veicolo fermo in avaria tra Firenze Viadotto all'Indiano e Firenze Scandici in direzione Livorno. Per quanto riguarda le statali sulla Aurelia chiusura di una corsia per lavori tra Orbetello Scalo e la stazione di Albinia in direzione Nord. Sulla statale 62 della Cisa lavori nel tratto compreso tra Caprigliola e il casello di Aulla sulla 15 in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!